Cari amici, buongiorno. Eccomi di nuovo a raccontare una pillola del percorso di digitalizzazione che si chiama questa volta fate circolare e muovere le merci, lasciate in protezione i vostri collaboratori. Ma sembra uno dei messaggi del telegiornale, in effetti è amplificato questo messaggio dal Covid che vede i trasporti internazionali inesistenti ma quelli locali resi difficili. Il progetto che noi stiamo mettendo in cantiere sul territorio del Friuli Venezia Giulia si chiama Supply Chain Event Management e tende a collegare clienti e fornitori in una filiera completamente illuminata sotto il profilo della programmazione e degli ordini e delle consegne, completamente trasparente sotto gli aspetti di qualità fornitore cliente e programmi del cliente affinché la logistica sia la più veloce possibile, la più integrata possibile, la più snella dal punto di vista burocratico possibile. Supply Chain Event Management oggi vede coinvolti e interessati alcuni dei fari, li vedete nello sfondo della ripresa, dei fari manifatturieri che abbiamo selezionato l'anno scorso ma la catena della subfornitura verrà a breve contattata. Se spontaneamente volete saperne di più vi prego chiamateci i P4FWG Polo Tecnologico di Pordenone siamo siamo pronti a accelerare il flusso merci senza far muovere le persone. Grazie